In questo tutorial vediamo come copiare una borsetta di cui possediamo una semplice fotografia con tutti gli strumenti del Canvas Workspace. Andiamo ad importare la foto con la funzione tracciamento immagine. Dobbiamo scegliere l'impostazione traccia aree per colore e abbassare il numero di colori individuati per poter tracciare meno profili. Andiamo ad ok. A questo punto riduciamo enormemente la visualizzazione zoom e andiamo ad ingrandire tutta l'immagine che abbiamo. Come vediamo è un'immagine proprio realistica. E sistemiamo la parte che ci interessa della borsa per fare il ritaglio all'interno del nostro tappetino di taglio che è 30-30. A questo punto andiamo sul livello e rimuoviamo il raggruppamento. Come vediamo avremo una serie di profili oltre all'immagine della borsa che momentaneamente andiamo a nascondere. Tutto il resto che è stato selezionato per farvelo visualizzare meglio lo andiamo ad aumentare di spessore. Ecco così è tutto visibile. Avendo rimosso il raggruppamento andiamo a cancellare i profili che non ci interessano. Ce ne sono altri due. E cancelliamo. Ritorniamo ad una condizione di zoom normale alle dimensioni del tappetino di supporto. Ancora c'è qualcosa da fare. Come vediamo ci sono dei profili in eccesso per esempio per le maniglie e poi se osserviamo bene non c'è una simmetria perfetta. Se dividiamo la borsa nei quattro quadranti con un asse orizzontale e verticale vediamo che per esempio qui compare una spigolosità che da quest'altro lato non c'è. Questo lato mi sembra meno largo di quest'altro. Insomma una serie di differenze che se poi dobbiamo andare a tagliare il materiale un po' rigido tipo il cartoncino potrebbe succedere che la borsa non si piega bene se fosse per esempio una scatolina. Con l'aiuto di un rettangolo, ora vado a centrare la borsa anche secondo la quadrettatura del tappetino. Vedete questo è il centro della borsa e lo sposto all'incrocio delle linee tratteggiate dei quadrettini. Identicamente andiamo a posizionare il quadrato su questo quadrante superiore destro della borsa. andiamo a togliere tutti i profili che non ci servono, quindi dai livelli li vedo e li cancello, questi delle maniglie che poi le rifaremo noi. Con un doppio clic entro proprio dentro al gruppo che questo è tutto riunito e vado a cancellare queste maniglie imprecise, seleziono e cancello. A questo punto vado nella funzione elaborazione forme. Seleziono sia il rettangolo che la borsa, vado sull'elaborazione sovrapposizione e utilizzerò la funzione dividi. Praticamente tramite il rettangolo ho ricavato una sezione della borsa e cancello tutto ciò che non mi serve. Quindi questa la cancello e questa la cancello. Mettiamo di nuovo in visibilità la borsa. Andiamo a realizzare adesso questi due intagli che sono dei passaggi dove dovranno passare a borsa finita i manici. Quindi con l'aiuto di un rettangolo vado su questa larghezza, lo duplico, seleziono, allineo, a questo punto raggruppo, lo trascino nella posizione e aumento notevolmente lo zoom per realizzare l'allineamento, perché questi due intagli devono essere paralleli a questo lato. Ecco, ci siamo, trasciniamo in posizione. Può andare bene. Ritorniamo su uno zoom più piccolo. A questo punto selezioniamo il profilo, il quarto di profilo della borsa e le aperture, i passaggi, andiamo sulla funzione elaborazione forme e dobbiamo a questo punto sottrarre. Quindi adesso la mia figura, come vediamo, è quella precedente con la sottrazione dei due passaggi. Nascondiamo nuovamente l'immagine della borsa e andiamo a copiare questa figura. andiamo a creare l'immagine speculare orizzontalmente e allineiamo con quest'altra figura. selezioniamo con la sottrazione dei due, andiamo a duplicare, copia e incolla. premiamo l'immagine speculare, questa volta verticalmente e mettiamo le combacianti. ci siamo. A questo punto le seleziono a due e a due e utilizzo questa volta la funzione unione forme. non si uniscono perché evidentemente non sono combacianti, quindi prendo per esempio il lato di destra, lo sposto leggermente e riprovo. Bene, perfetto. Andiamo a fare l'unione di quella di sotto e andiamo a fare l'unione del sopra con il sotto. Ok, ci siamo. E' il momento di fare le maniglie. Quindi per attenermi il più possibile al modello, rivisualizzo la fotografia della borsa. Tutte le differenze che vedete con il profilo fotografato della borsa sono semplicemente dovute alla foto che ha cercato di mettere in piano una figura che comunque aveva già una forma quindi è sicuramente più precisa quella che abbiamo creato insieme rispetto a quella reale. reale. Duplichiamo questa forma, la giriamo e la mettiamo nell'altra posizione. rinascondo la borsa, prendo le due maniglie del raggruppo, seleziono l'ultimo gruppo e la borsa e faccio il centramento in verticale. aggiungiamo una piccola decorazione, un'immagine dal computer, quindi sempre con la funzione tracciamento immagine, scegliamo questo qui. tracciamo solo il contorno esterno e diamo l'ok. Rasciniamo l'intaglio su un fianco della borsa, lo duplichiamo sull'altro fianco della borsa, andiamo sempre sui centramenti pignoli, andiamo a nascondere l'immagine e a vedere quali sono i contorni che ha considerato, come vediamo i profili più sottili sono stati ignorati però diciamo che abbiamo comunque un ricamo molto carino. La nostra borsetta è pronta, andiamo ad esportare il tracciato di taglio alla macchina. E adesso andiamo a recuperare i dati. Abbiamo impostato la leva della macchina sul livello 2 per materiali più spessi perché questo comunque è un tappetino di gomma soffice e anche sopraelevato. quindi a questo punto aggiungiamo, selezioniamo il taglio e andiamo a fare una prova. Trasciniamo il tassello di prova in un punto dove non ci sarà materiale utile e andiamo. Tutte le impostazioni momentaneamente sono quelle automatiche. Vediamo se la macchina pure questa volta indovina cosa deve fare o se dovremo impostare manualmente qualche parametro. Vedete che dice il tempo stimato per il completamento del taglio è stato aggiornato. quindi torna in punti la punta dove non è presente il materiale e riprende il riferimento con il livello e decide se ritagliare o no sullo stesso elemento. Ok, la chirurgia è avvenuta con successo, possiamo avviare il taglio. Ci comportiamo, è un materiale molto particolare. Come vedete i file che gli ho inviato per il momento sono solo dei ricamini che sono presenti al centro della borsa. Non è tutto il profilo completo di taglio. Stiamo facendo delle maniglie, stiamo facendo dei piccoli fori. Certamente quello che sta togliendo tantissimo tempo è proprio la realizzazione di questo ricamino. Comunque ogni tanto arrivano pure delle belle notizie perché il tempo per il completamento del taglio è stato aggiornato e risultano almeno 15 minuti in meno. Bene. Tutta la prima parte è completata, ci sono un po' di detriti, di pezzetti che si sono staccati. Questa è colpa di un tappetino che ha perso comunque la sua funzione completa per l'aderenza. E adesso andiamo a importare il tracciato di taglio del contorno totale della borsetta. Tutte le prove sono state fatte, selezioniamo il taglio e avviamo. Per il momento la macchina sta pensando che ci mette uno o due minuti a realizzare tutto. Sta passando la seconda volta. Secondo me questi mi possono dare passivi. Vediamolo. Ah, di ciloglio completato. Bene. Ora bisogna fare giusto un po' di pulizia. Allora possiamo dire che il taglio è venuto molto bene. Forse avrei tolto questi piccoli forellini che ovviamente il plotter non è riuscito a separare su questo spessore di materiale. È ovvio che poi uno con una forbicetta si può mettere a ritagliare. Adesso come si fa a chiudere questa borsa? Bisogna prendere le due parti, sovrapporle e far passare all'interno la maniglia con la striscia centrale. Bene. L'altro lato, sovrapponiamo, facciamo passare il manico prima dentro, poi lo facciamo riuscire. Scusiamo brutalmente e poi lo allineiamo. Facciamo di scavalcare questo intreccio. Beh, ci siamo. Il lavoretto è veramente molto carino. Ovviamente rispetto al modello in carta è completamente differente perché questo è un modello fatto per essere morbido. Vedete la differenza? Qui la carta dove si deve incurvare comunque fa delle trepe di piegatura. Invece questa è tutta soffice. Quindi anche questa volta con la ScanCut e qualche accessorio decorativo siamo riusciti a creare un confezionamento parinissimo che può essere utilizzato per qualsiasi ricorrenza. Contattateci se siete interessati alla ScanCut.